Cocebbi, ma non me lo vuole dire prima? Una sorpresa è sempre una sorpresa. Cocebbi, ma di che si tratta? Può dirmelo? Ragazzi, grazie per essere venuti qui oggi. Voglio che diventiate testimoni di un evento molto importante nella mia vita. Cocebbi, allora chi ha preparato una sorpresa? Non riesco a capirlo. Vuole darmi dei nuovi pompon? Diana, riceverai un regalo da un'altra persona e non sono pompon. Ma le ragazze e io abbiamo già il problema di Giada e... Diana, altre apriremo gli occhi, ma tu non svenire, d'accordo? Due, tre! Sorpresa! Vorrei che tu accettassi questi pattini a rotelle. Li ho anche io. Andremo insieme e tenendoci per mano. Simone, cosa? Voglio chiederti di diventare mia sposa davanti a tutti questi ragazzi. Ti prego, vuoi metterti con me? Te lo chiedo per favore.